Con un'ordinanza valevole dal 15 ottobre fino al 13 novembre 2020, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini dispone il divieto vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21 alle ore 6, da parte degli esercizi commerciali di vicinato, delle medie strutture di vendita e dei distributori automatici di bevande, e il divieto di consumare bevande alcoliche sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 21 alle ore 6. Per gli esercizi commerciali resta consentita la vendita con consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. L'ordinanza si è resa necessaria per prevenire il formarsi di assembramenti attorno a negozietti e distributori che praticano la vendita, tra le altre merci di alcolici la cui attività, al contrario di quelle di pub e ristoranti, stando al nuovo decreto ministeriale, non sarebbe vietata dopo le 21. E per scongiurare inoltre l'acquisto, il negozio e il consumo in piazzette e spazi pubblici con relativo rischio di assembramento dopo le ore 21.